In quali peccati cadrà Dante? Dante ad ieri si trova immerso nel peccato. La selva oscura rappresenta il peccato. In quali peccati cadrà Dante all'età di 35 anni? La lussuria. che è rappresentata dalla lonza. La superbia che è rappresentata dal leone. L'avarizia e la cupidicia che sono rappresentati dalla lupa. Questi tre animali impediscono il cammino a Dante. Dante è ostoccolato nel suo cammino verso Dio da questi peccati. Ciao al prossimo video. A presto.